Maggioranza 151, fuori 297, contrari 4, la Camera approva. Siamo all'articolo 14 terro, ho bisogno del parere sull'emendamento. Prego, Redatore. Favorevole. Grazie, il Governo? Favorevole. Grazie, se nessuno chiede di intervenire sul 14 ter 50, lo pongo in votazione col parere favorevole del Redatore del Governo. La votazione è aperta. Chi non riesce a votare? Coscia. Cozzolino. Altri? Benamati. Altri che non riescono a votare? La votazione è chiusa. Presenti 375, votanti 369, astenuti 6, maggioranza 185, fuori 277, contrari 92, la Camera approva. Siamo ora a votare l'articolo 14 terrore. Votiamo l'articolo, la votazione è aperta. Chi non riesce a votare? Trippiedi. Cozzolino. Ghizzoni. Ci siamo? Non vedo mani alzate? La votazione è chiusa. Presenti 373, votanti 302, astenuti 71, maggioranza 152, fuori 299, contrari 3, la Camera approva. Ora siamo all'articolo 14 quater, non ha emendamenti, quindi così com'è lo poniamo in votazione. Se nessuno chiede di intervenire, la votazione è aperta. Chi non riesce a votare? Abbiamo votato tutti? Io non vedo mani... Ah sì, onorevole De Lorenzis. Paola Bragantini. Monchiero. Ci siamo? No, De Lorenzis ancora non riesce a votare. E' patriarca. Niente, l'onorevole De Lorenzis non riesce, quindi penso che avrà bisogno di un... Ah, ok. Altri che non riescono a votare? La votazione è chiusa. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.